Ciao ragazzi, sono Linda Cavallini, l'autrice di Lumina insieme a Emanuele Tenderini. Sono qui per ricordarvi, anzi per dirvi, che questo fine settimana, cioè il 16, il 17 e il 18 settembre, saremo a Novara, al Fumettopolis, che è un festival del fumetto indipendente. È un sacco carino, ci sono un sacco di autori veramente interessanti. E quindi se vi va, fatevi un giro perché vale la pena. Noi saremo lì con Lumina, Lumina, e con Shani, World of Lumina, numero uno. E niente, saremo lì, insomma, quindi passate a trovarci, ci farebbe piacere. Ciao ciao!